bene ragazzi ciao a tutti e bentornati sul canale di white vape continuiamo con la saga dei riot squad in questo caso proviamo il mentol molotov di questi e abbiamo la descri la descrizione la descrizione quindi il mentol molotov sentite che italiano tra l'altro ci viene detto un attacco di frutta tropicale mentolata per sabotare i tuoi sensi e vandalizzare le tue pupille gustative basta accendere lo straccio a me fa paura allora frutta tropicale mentolata c'è tutto questo attacco sabotaggio vandalismo moro frutta tropicale mentolata quali frutti non ci viene detto mix di frutti tropicali mentolati però non sto scherzando viene detto proprio così un attacco di frutta tropicale mentolata per sabotare i tuoi sensi e vandalizzare le tue pupille gustative sti cazzi pensa quando io devo raccontare clienti allora prima prima cosa devo dire che qua la menta si fa più forte il ghiaccio si fa più forte non la menta il ghiaccio si fa più forte la nota dei frutti tropicali si sente anche se c'è la nota predominante del mango a mio avviso non so se a me mi da una dei frutti sento una nota pungente di menta si si c'è una nota pungente pizzicatina di menta ma io menta non l'ho sentito sento il ghiaccio io sento perché forse mentolato il ghiaccio ma anche sento questa nota pungente proprio di menta sapete quando la mente è bella piperita ecco ma io non ho notato questa nota di menta forse in sottofondo si sentono i frutti cioè diciamo che la prima cosa che sento io sono il ghiaccio mentolato bello pungente con un aroma retrogusto di frutti tropicali che riesco a capire che tra l'altro alma squirter hai capito vabbè comunque detto questo ragazzi il liquido non mi fa impazzire devo essere sincero è un liquido senz'altro buono ma non è un liquido al quale do più di 6 rispetto agli altri sai cosa si sente poco o niente la frutta tropicale cioè perché dice così ma di 6 è troppo allora bisogna anche sai cosa qui bisogna essere onesti nella descrizione perché nel momento in cui tu mi metti giù un attacco di frutta tropicale io nel mio cervello cosa mi immagino un cugno di frutta esatto invece qui il frutto tropicale lo si percepisce come sottofondo come il retrogusto cioè quando hai finito di sentire il ghiaccio mentolato si sente il sottofondo dei frutti allora no dai allora facciamo una cosa allora 6 è troppo basso in realtà è un liquido da 7 secondo me perché è buono è svapabile tutto il giorno non stanca è calibrato tutto quello che vuoi forse per me non fa impazzire secondo me no poi magari come dice il gatto leccandosi il culo i gusti sono soggettivi i gusti sono gusti vero no però diciamo senza infami senza lode non mi fa impazzire non mi sento discreditarlo no perché sono sicuro che ci sarà di sicuro qualcuno a cui piacerà gli amanti dell'eisenberg secondo me questo è un liquido per gli amanti dell'eisenberg questo è un liquido che piace a quelle persone però diciamo che come me l'ha messo giù nella descrizione però ti attira ti viene voglia di continuare si no allora già solo il fatto che ci vedete svapare perché allora messaggio subliminare quando ci vedete che un liquido facciamo una svapata e poi parliamo e basta vuol dire che fa schifo il fatto che comunque vedete che lo continuiamo vuol dire che allora il fatto di avere questo sottofondo di frutti tropicali del quale non riesci a percepire una nota fissa ma è un sottofondo ti fa venire voglia di svaparlo di continuo perché vuoi capire cosa c'è dietro e nel capirlo piano piano ti piace sempre di più allora di sicuro c'è il mango ogni tanto mi è parso di sentire l'ananas forse boh non lo so probabilmente c'è anche dell'ananas detto questo ragazzi senza infami e senza l'odio un liquido rimango sul 7 lo straccio da accendere non lo sento neanche io effettivamente quella nota non è pervenuta però ragazzi secondo me è un liquido da 7 se vi è piaciuto l'eisenberg è un liquido che vi piacerà anche secondo me è un 7 se vi piacciono i frutti tropicali non immaginatevi un frutto tropicale bam forte non è la nota predominante dei frutti tropicali è una nota di sottofondo perché principalmente si sente appunto questo ghiaccio e mentina anche io per me il gusto principale è ghiaccio mentolato peperito si con... e dopo viene il retro gusto di frutti tropicali leggero leggero si che... allora devo essere sincero che forse se l'avessero detto così ghiaccio mentolato con sottofondo di gusti tropicali avrebbe avuto un altro impatto eh perché nel momento in cui tu mi dici un attacco di frutta tropicale io... mi immagino frutta vero eh beh ragazzi non c'è altro da dire inutile dilungarsi troppo il liquido 7 comunque senza infamia senza lodi si rimane su un 7 ci è piaciuto ni nel senso che comunque dall'inizio che l'abbiamo iniziato a svapare ad ora vi devo dire la verità che ti fa venire voglia di continuarlo a svapare quindi un all day pieno 7 7 va bene detto questo ragazzi vi chiediamo se avete provato anche voi questo liquido scriveteli sotto nei commenti o diteci comunque cosa ne pensate se vi è piaciuto il video mettete un mi piace iscrivetevi al canale e nient'altro arrivederci e alla prossima arrivederci ciao